Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Trattamenti tra Empoli Ovest e San Mignato, code in uscita a San Mignato e l'Astra a Segna. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!